Buon pomeriggio a tutti, io sono Nando Pappalardo, sono il fondatore di Your Inspiration Teams, una società che si occupa di sviluppo di plugin e template per WordPress. Nell'ultimo anno ci siamo specializzati nello sviluppo per plugin e template per WooCommerce, quindi principalmente per chi fa e-commerce online tramite WordPress. Mi presento brevemente, con la nostra società vendiamo un po' in tutto il mondo, template e plugin, abbiamo clienti in tutte e cinque continenti, abbiamo organizzato quattro eventi negli ultimi quattro anni, ci occupiamo anche di organizzazioni di eventi che riguardano web design, WordPress, abbiamo venduto più di 70.000 prodotti in tutto il mondo, tra template e plugin, abbiamo iniziato vendendo template su marketplace Team Forest, tutto è cominciato da lì per gioco, caricando il primo template fatto insieme a mia moglie. Mia moglie si occupa della parte grafica, è una bravissima grafica, oggi non è qui perché abbiamo due bambini piccoli e purtroppo è dovuta restare a casa dietro a queste due piccole pesti, ma lei ha dato l'anima anche a questa azienda, molto del merito e anche suo per il successo che abbiamo avuto, perché comunque a livello grafico realizzava prodotti di una certa qualità, questo ci ha permesso su Team Forest di diventare top authors, abbiamo venduto migliaia e migliaia di template, e da lì abbiamo iniziato in due, come per gioco, oggi siamo un'azienda composta da 32 persone, abbiamo iniziato nel 2011. 4 milioni di dollari fatturati a oggi con la vendita di template e plugin. Se pensiamo che tutto era iniziato come per gioco, è qualcosa che oggi anch'io guardandomi indietro stento un po' a credere. Voglio descrivervi con 6 immagini il percorso che abbiamo fatto, perché tutto questo è iniziato nel 2011, ma prima del 2011 noi avevamo una piccola web agency e lavoravamo con il cliente finale, quindi realizzavamo siti internet per il cliente, stavamo dietro al cliente, con tutto quello che comporta questo tipo di lavoro. Questa è mia moglie in una fase di ispirazione quando doveva disegnare qualcosa per un cliente. Il cliente non era mai contento, non piaceva, nonostante realizzasse lavori di un certo livello, non erano completamente apprezzati, perché dall'altra parte non c'era la cultura di capire il tipo di lavoro che veniva svolto. E questo per un creativo è la cosa più frustrante, non riusciva a trovare la soddisfazione nel lavoro che realizzava, anzi il più delle volte il suo lavoro veniva completamente stravolto dalle esigenze del cliente, che magari chiedeva di utilizzare uno sfondo verde pisello perché la figlia piaceva il colore verde, oppure la musichetta sottofondo perché quindi ti distruggeva proprio ogni possibilità di creatività. Qui sempre mia moglie è rappresentata, non è mia moglie, è un'immagine per rappresentare, mia moglie durante un accollo con un cliente, mia moglie in una discussione con un cliente dove magari probabilmente non si trovava d'accordo col cliente. Un bel giorno, io gli ho detto, proviamo, avevo scoperto il marketplace di Team Forest, avevo visto che sulla sezione WordPress c'erano dei numeri interessanti, perché WordPress iniziava a diventare, a diffondersi sempre di più, era il 2011, e ho detto, io non ho mai sviluppato un tema per WordPress, prova a studiarmi tramite il codex che è disponibile sul loro sito, come funziona lo sviluppo di un template, tu provi a disegnare qualcosa di carino dove non c'è il cliente finale, siamo noi a realizzare veramente quello che crediamo sia carino, e lo mettiamo in vendita, vediamo che succede. Ovviamente lavoravamo sempre con i clienti, non potevamo abbandonare i clienti, perché è quello che ci pagava l'affitto della casa, la spesa e tutto il resto, quindi le ho proposto di farlo durante il sabato e la domenica. E questa è stata un po' la reazione di mia moglie quando gli ho detto, ritagliamoci un po' di tempo il sabato e la domenica per realizzare questi template. L'abbiamo fatta, alla fine sono riuscito a convincerla, e questa è la sua faccia quando ha visto gli incassi su Team Forest dopo le prime vendite. e questa è la mezz'ora dopo, che ovviamente la prima cosa che ho pensato è quella di andare a fare shopping. Ora, tutte queste sei immagini per descrivervi quella che è stata per noi una liberazione, siamo riusciti a trasformare qualcosa che prima era una frustrazione nel nostro lavoro in qualcosa che non ha avuto più nessun limite, perché a quel punto non dovevamo interagire più con una terza persona, il lavoro che veniva svolto era esattamente quello che noi volevamo svolgere. E il lavoro che noi volevamo svolgere, messo in vendita su un marketplace, in campo internazionale, veniva apprezzato abbastanza. Ci sono stati dei template che sviluppati in due settimane hanno generato anche 500 mila dollari di vendite, quindi roba sconvolgente per noi che prima di buttarci in questo sentiero non immaginavamo neanche. Ma veniamo al vero intervento che voglio discutere oggi. Stiamo vivendo un periodo un po' particolare di crisi economica in ambito internazionale. Si fa fatica a trovare lavoro. Oggi una delle frasi che si sente dire di più è proprio questo, disoccupazione, non c'è lavoro, i giovani, soprattutto io vengo dalla Sicilia, ora mi sono trasferito a Teneriffa, abito a Santa Cruz, ma da meno di un anno. Vengo dalla Sicilia, la mia realtà l'ho creata in Sicilia, i ragazzi li ho presi tutti quanti in Sicilia, sono rimasti tutti in Sicilia, loro mi sono trasferito solamente io con la mia famiglia, loro continuano a vivere lì, lavorano lì, sono assunti lì. E la percentuale di disoccupazione giovanile al sud, dalla campagna in giù, oggi è del 60%, una roba stratosferica, significa che su dieci giovani sei oggi non hanno lavoro. Non hanno lavoro significa non hanno futuro. Non possono crearsi una famiglia, non possono acquistare una casa, devono vivere con i genitori. Questo è qualcosa di frustrante per qualsiasi essere umano. E pensate che al sud sei su dieci ragazzi hanno questa prospettiva, questa realtà. Quindi il dato di fatto ad cui parliamo è che oggi non c'è lavoro. Io quello che voglio dimostrarvi è che è qualcosa di abbastanza falso, sotto certi punti di vista, questo oggi non c'è lavoro. Perché in realtà, secondo me, abbiamo una miniera d'oro sotto i piedi, in questo momento, è il 90% delle persone non sta riuscendo a vedere questa miniera d'oro che c'è sotto i propri piedi. E per farvi un esempio, vi voglio parlare di Netflix e Blockbuster, che è un classico esempio che rappresenta proprio il concetto di quello che voglio esprimere. Quanti di voi conoscono Blockbuster? Tutti. Se vi ricordate, Blockbuster era diventato il leader assoluto nel campo del video-noleggio, di film, videogiochi. Nonostante fosse una multinazionale, con delle filiali presenti in ogni nazione del mondo, o in buone parte delle nazioni del mondo, Blockbuster nel 2013 ha dovuto chiudere. Questo perché il mondo del lavoro, come noi eravamo abituati a conoscerlo, è cambiato, ci sta cambiando sotto mano. Non ce ne stiamo rendendo conto. Oggi stiamo vivendo una grandissima rivoluzione, sociale, culturale, che sta trasformando il nostro mondo del lavoro. Io un po' la paragono alla rivoluzione industriale. Secondo me questo periodo storico verrà studiato più in là. sarà la rivoluzione informatica. Oggi vengono creati nuovi posti di lavoro ogni giorno, ogni anno ci sono nuovi posti di lavoro, che l'anno prima non esistevano. Completamente creati da zero. E il classico posto di lavoro che noi conoscevamo sta morendo. Non esiste più. Quindi non c'è lavoro se noi guardiamo a quella vecchia società lavorativa, a quel vecchio modo di fare lavoro. Oggi se ne stanno creando di nuovi, dobbiamo guardare al nuovo, a quello che arriva. Netflix è l'esempio, contrapposto a Blockbuster, di qualcuno che ha saputo intercettare questo cambiamento, abbracciare il cambiamento, piuttosto che restare bloccato come Blockbuster. Blockbuster nel 2013 chiude, Netflix conquista il mondo. Netflix è arrivata adesso in Europa, Italia, Spagna, ha abbracciato altre nuove nazioni. Netflix si espande. Qual è la differenza tra le due società? Sono entrambe nello stesso target, stesso settore. La differenza è che Netflix ha saputo sfruttare questo grande cambiamento. La rivoluzione informatica, Netflix c'è dentro. Netflix distribuisce i contenuti in streaming. Non più il concetto del negozio fisico con la videocassetta da andare a portare. E questa è una differenza abissale. Se riusciamo a vedere questo, iniziamo a vedere quella miniera che c'è sotto i nostri piedi, perché abbiamo questa miniera d'oro e non la vedono neanche le grandi multinazionali. Cioè il cambiamento è talmente così grande e così radicale che anche una multinazionale fa fatica a capire questo cambiamento. E poi si ritrova a chiudere, perché si scontra ovviamente con questo cambiamento, che non è stato in grado di affrontare. Oggi il mondo del lavoro è completamente cambiato. Uno degli esempi più classici pure che faccio sempre è ci sono delle multinazionali. Airbnb. Quanti conoscono Airbnb? Buona parte. Airbnb è una società che mette a disposizione appartamenti o stanze in affitto. Ma non li mette a disposizione in prima persona. Funge da tramite. Altre persone attraverso il portale Airbnb mettono a disposizione in affitto le proprie camere o la propria casa. Airbnb oggi è il più grande portale al mondo di affitti non possedendo una sola proprietà. Iniziate a vedere il cambiamento anche qui. Sono la prima società al mondo per affitto di immobili senza possedere un solo immobile. Assurdo. Inimmaginabile dieci anni fa una cosa del genere. Uber. Quanti lo conoscono? Stessa identica cosa di Airbnb. Noleggio auto senza possedere una sola auto. AliExpress. Quanti lo conoscono? Così pochi. AliExpress. Alibaba. La società quotata in borsa lo scorso anno negli Stati Uniti con la più alta quotazione di sempre. Il re degli e-commerce sta in Cina. Più di Amazon. AliExpress non ha un solo magazzino. Non vende i propri prodotti. È un marketplace. Altri e-commerce vendono attraverso AliExpress. Il mondo è cambiato. Sta cambiando. Dobbiamo capire proprio questo. Se capiamo questo si aprono orizzonti completamente nuovi. e dove il lavoro c'è e c'è a bizzeffe il lavoro. Perché proprio essendo dei ruoli nuovi che si aprono quotidianamente ancora c'è pochissima gente formata per questi ruoli. E se semplicemente iniziamo a prendere l'abitudine a avere l'atteggiamento proattivo a metterci noi in moto e andare nella direzione di prendere la formazione per riuscire a coprire quel ruolo che si è creato abbiamo trovato lavoro. Social media manager è una figura nata negli ultimi anni. Vent'anni fa poteva esistere un social media manager cos'era vent'anni fa un social media manager? Impossibile. Oggi ci sono i social media per dirne una ma ce ne sono centinaia di queste figure. E non c'è un'università che forma questo. Non c'è un percorso di studio che porta lì. Io sono diventato uno sviluppatore Wordpress ma come? Sapete qual è il mio titolo di studio? Tecnico geometra. C'è tanta affinità tra tecnico geometra e sviluppatore Wordpress. Non c'entra nulla. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per conto mio da autodidatta. Mi mettevo online e studiavo. Leggevo, mettevo in pratica studiavo. Le notti, passavo le notti perché di giorno lavoravo facevo un altro lavoro. passavo le notti lì studiavo e mi sono creato il lavoro. Ho visto la miniera ho scavato e ho raccolto l'oro. È sotto i nostri piedi questa miniera ed è accessibile a tutti. Non è di difficile reperibilità. Oggi internet è pieno di materiale formativo gratuito o a pagamento come preferite ma sono mille i modi per formarsi. una delle domande che mi pongono spesso è ma ovviamente chi è fuori chi non è del settore quando parliamo dicendo che si lavora con wordpress una piattaforma open source completamente gratuita si meraviglia ma come fate a farci un business su un software che è completamente gratuito c'è qualcuno che paga per averlo installarlo visto che è gratuito ed è accessibile a tutti chiunque può farci quello che vuole come si può guadagnare? I modi sono tantissimi io ne ho individuati almeno quattro principali più importanti ma quattro che possono portare risultati incredibili il vendere al cliente finale che vedete scritto qui vendere e fidelizzare al cliente finale può essere la bottega sotto casa questo poi dipende dalle competenze vostre di marketing di vendita quello che siete in grado di riuscire a realizzare ma può essere anche fare il sito internet per la Disney come fa crowd favorite di Karim se avete seguito Karim la loro società negli Stati Uniti realizza siti fatti con wordpress per le più grandi multinazionali al mondo la Disney la Microsoft lo scorso anno mi faceva vedere che Office 365 era realizzato con wordpress quindi il cliente finale può essere la bottega sotto casa ma può essere anche la grande multinazionale può essere anche la Disney potete vendere un sito web realizzato con wordpress anche alla grande multinazionale se siete in grado di farlo quindi questo è il primo modo per poter monetizzare con questa piattaforma open source andare a fare consulenza e realizzazione sviluppo per un cliente che può essere piccolino o medio o grande il secondo modo quello che principalmente facciamo noi tramite un e-commerce online è vendere a tutti tutti quelli che utilizzano la piattaforma dei plugin dei template tutto ciò che può aggiungere funzionalità a wordpress o cambiare l'aspetto estetico di wordpress tramite una propria piattaforma e vendete in tutto il mondo noi viviamo di questo siamo in 32 grazie a questo quindi anche questo è un altro modo di lavorare attraverso una piattaforma open source il terzo modo che ho individuato è quello attraverso i marketplace che è il modo in cui noi siamo partiti quasi per gioco attraverso un marketplace anche se non avete nessuna competenza per realizzare un vostro e-commerce non avete competenze di marketing o altro attraverso un marketplace saltate tutti tutti questi step che in realtà magari vi mancano e utilizzate la popolarità della piattaforma qui cito alcuni tra i più grandi marketplace al mondo che non riguardano wordpress ovviamente per wordpress ci sono altri marketplace ma il concetto è quello sapete come funziona un marketplace chi non conosce il concetto di marketplace nessuno lo sapete tutti quindi attraverso un marketplace sfruttiamo la popolarità del marketplace è il marketplace che pensa a portare visite clienti è il marketplace che fa marketing fa tutto lui tu devi semplicemente caricare il tuo prodotto e prendi la tua provvigione ad ogni vendita noi attraverso un marketplace vi dicevo siamo partiti che eravamo solamente io e mia moglie abbiamo realizzato dei template che dal nulla hanno generato vendite anche per 500 mila dollari e ci siamo ritrovati in un mondo catapultati in un mondo che sconoscevamo completamente vedendo queste potenzialità da lì il passo successivo è stato abbastanza breve ma tutto è iniziato attraverso un marketplace quindi anche quando non avete determinate compotenze per poter gestire un vostro e-commerce in prima persona basta appoggiarsi un marketplace e anche questo è un altro modo per monetizzare attraverso una piattaforma open source sviluppare e vendere plugin qui piuttosto che puntare sulla quantità di template o plugin sviluppati come facciamo noi il nostro modello di business è questo puntare su diversi plugin o diversi template ci sono delle realtà che invece hanno sviluppato un singolo plugin per wordpress e su quel singolo plugin ci hanno fondato una grande società un singolo plugin che aggiunge delle funzionalità wordpress che wordpress di suo non ha che va a colmare una domanda del mercato che è un'esigenza che le persone che utilizzano wordpress hanno sviluppando quel plugin come per esempio wpml è uno di questi è un singolo plugin ma c'è una società intera lì dietro wpml è un plugin che serve per la traduzione in multilingua di un sito fatto con wordpress loro hanno sviluppato questo plugin vendono diversi micro plugin combinati tra di loro ma tutti che riguardano comunque la traduzione in multilingua e hanno fondato un'intera società su questo su un unico plugin e non sono gli unici gravity form stessa identica cosa un'intera società dietro un plugin oppure l'esempio più emblematico woocommerce un plugin che trasforma wordpress in e-commerce bingo genialata lo scorso anno c'è stata l'acquisizione non è da parte di automatic addirittura c'è automatic che sta dietro a wordpress acquisito proprio woocommerce per diversi milioni di dollari quindi pensate il plugin giusto che trasforma wordpress in qualcosa in più quanto può valere quanto può valere anche questo è un altro modo per monetizzare attraverso wordpress riepilogando i quattro modi che abbiamo visto vendere al cliente finale vendere in proprio attraverso un proprio e-commerce vendere attraverso i marketplace e sviluppare e vendere un singolo plugin ma talmente richiesto che va a colmare un'esigenza comune per cui puoi svilupparci addirittura un'intera società dietro non è un prodotto che lo metti in vendita e finisce ed è lì è un prodotto che diventa una società come è successo con gravity form come è successo con WPML Ioast non l'ho messo qui ma anche Ioast abbiamo i ragazzi di Ioast qui al WordCamp presenti anche Ioast la stessa identica cosa è un unico plugin ma dietro c'è una società c'è quel plugin da lavoro a diverse persone quindi uno strumento open source completamente gratuito ma che si presta a diversi modelli di business tutto sta alla vostra visione più siete in grado di allargare il vostro sguardo e più l'orizzonte si allarga non è che oggi manca lavoro si è semplicemente trasformato dobbiamo imparare a vedere questa trasformazione lo so noi che la stiamo vivendo per noi che la viviamo è difficile molto difficile perché noi ancora abbiamo la cultura del vecchio lavoro i ragazzi che nascono oggi per loro sarà più semplice oggi il lavoro ne cito uno tanto per dirne qualsiasi senza nulla togliere a quello che cito il lavoro del calzolaio va sempre più a morire negli anni 50 magari era una cosa molto più comune oggi non è più così oggi ci sono nuovi lavori nuove figure se continuiamo a vedere sempre i soliti lavori l'ingegnere l'avvocato non possiamo andare avanti così abbiamo migliaia di avvocati che si lavorano ogni anno possono farsi causa tra di loro a un certo punto non c'è lavoro per tutta questa gente nello stesso settore e invece e vi posso dire una cosa e questa ve la posso confermare perché ho avuto la difficoltà in Italia e la sto avendo in Spagna a Tenerife stessa identica difficoltà ogni qualvolta io devo assumere una persona perché noi servono stiamo crescendo siamo sempre in crescita oggi siamo in 32 e continuo sempre a cercare per assumere ogni volta che devo assumere una persona faccio una fatica enorme a trovare la persona schillata metto un annuncio arrivano 100 candidature su 100 candidature spesso non ne va bene neanche una mi succedeva in Italia mi succede in Spagna in Italia eravamo riusciti a prendere un accordo con alcune facoltà a Catania avevamo stretto un accordo con la facoltà di ingegneria informatica in cui ci avevano concesso di fare un piccolo corso un piccolo modulo facoltativo per gli utenti uno di quei moduli facoltativi che si può mettere o togliere dal piano di studio valeva 6 crediti in cui formavamo le persone con le competenze che servono a noi perché era un peccato da me venivano degli ingegneri informatici lavorati con 110 lode la magistrale il massimo il top lavorati in tempo perfetto in 5 anni perfetti venivano lì gli facevamo il test per le cose che servivano a noi e ovviamente era 0 0 0 0 e non è un peccato che un ingegnere informatico con quelle competenze resta fermo lì disoccupato quando con 6 mesi di formazione perché con le basi che ha un ingegnere informatico fare php jQuery javascript sono delle cavolate in 6 mesi li impara perché comunque ha tutte le basi e la formazione per fare questo non è un peccato che resti disoccupato piuttosto che invece andare a trovare subito lavoro sto trovando la stessa identica difficoltà a Tenerife a Santa Cruz domani verranno due persone ho stetto la prima convenzione con l'università di San Cristobo della Laguna che è l'università più importante che c'è a Tenerife ho fatto i primi colloqui poi anche lì ingegneri informatici appena laureati arrivano con competenze quasi zero rispetto a quello che serve a noi l'alternativa è restare disoccupati oppure formarsi adesso noi dobbiamo perdere 6 mesi di tempo per formare questi ragazzi perdo tempo io perdono tempo loro quando invece se l'università colmasse queste lagune quei ragazzi troverebbero subito lavoro perché come me io sono solamente l'esempio che oggi vi racconta la sua esperienza ma come me ci sono tantissime altre aziende che hanno la stessa necessità e che non trovano queste figure formate proprio perché non sono pronte le università se non me la sentissi di mettermi in gioco in prima persona tutte queste questi quattro metodi che abbiamo visto comunque richiedono un minimo di attività imprenditoriale quindi dovreste essere in grado di gestire la vendita i clienti avere una partita IVA tutto quello che ne comporta tassazione un commercialista dichiarazione di erediti bla 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 ci sono persone che magari non se la sentono di mettersi in gioco in prima persona preferiscono un lavoro da dipendente invece tutto quello i quattro modi che abbiamo visto richiedono un minimo di attività imprenditoriale chi non se la sente di mettersi in gioco in prima persona idem non cambia il discorso perché come vi dicevo come me che cerca persone da assumere in questo settore ce ne sono tante altre aziende simili tantissime realtà che cercano sviluppatori wordpress basta fare una ricerca su google e vi vengono fuori annunci all'infinito certo bisogna fare attenzione ci sono gli annunci fuffa e quelli sono da evitare completamente dove cercano il tuttologo con 800 euro al mese il tizio che gli faccia da photoshop illustrator grafica flash e anche il codice ecco queste sono cose completamente da evitare assolutamente ma ci sono le aziende serie che cercano e che hanno esattamente quella competenza il problema è che oggi sono in pochi ad avere quelle competenze e quei pochi che ce l'hanno sono carichi di lavoro perché lavorano perché il lavoro c'è come qui provate a fare provate a fare una ricerca su google sviluppatore wordpress vedete cosa trovate io mi ci scontro tutti i giorni da quattro anni a questa parte ed è una fatica immensa ecco questa è la slide finale siete ancora convinti che manca il lavoro? sì o no? no non sento non vi vedo convinti sì o no? ok io ho finito grazie grazie mille sono sicuro che ci saranno domande domande? una due ciao ciao io mi sono rivisto molto nel io ho 25 anni mi sono rivisto molto nell'ultima parte del tuo discorso e anche io ho iniziato con una piccola web agency di pochi clienti partita IVA di Tendi Duale eccetera eccetera e niente nel ho visto studiando ingegneria gestionale al Politecnico di Milano quindi avendo a che fare con ingegneri informatici eccetera eccetera che uno esce e non sa programmare un'applicazione non sa fare un sito non sa fare un social la gestione di social non sa fare niente stessa cosa è il gestionale quindi ok si ha delle infarinature di marketing poi vabbè su tutta la filiera però vabbè dopo il lavoro è un'altra cosa e poi naturalmente l'altra parte importante che io chiamo figura mitologica quello che sa programmare e quello che sa di grafica quindi con concetti di marketing che è proprio difficile quindi io volevo chiederti quali sono le skill che tu richiedi per vedere se sono le stesse che sto cercando anch'io o comunque studiando come dicevi tu si può riuscire a completare il tutto ecco ok le skill che chiediamo noi sono quelle classiche nulla di particolarmente eclatante back end quindi PHP è un minimo di front end se lavori con i template non è un minimo di front end ma capire bene il front end significa html css jquery se lavori con i plug in è solo un minimo per capire un pochettino come interfacciarti col front end nulla di particolarmente difficile quindi PHP html css jquery c'è qui c'è di cui stiamo parlando di cercare l'event perché c'è 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 diverse, gestione social è un'altra cosa completamente diversa rispetto allo sviluppo applicazione e sito web ok applicazione e sito web allora se sviluppi, dipende di cosa sviluppi se sviluppate in PHP la skill richiesta è PHP un'altra figura non sommare le cose, no 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 il tutologo non esiste assolutamente il grafico deve fare il suo lavoro che non c'entra nulla con lo sviluppo lo sviluppatore deve fare il suo lavoro che non c'entra nulla con la grafica, può capitare in alcuni casi capita la figura mitologica io ho conosciuto qualche bravo grafico che era anche bravo però sono casi rarissimi generalmente se vuoi avere una persona molto brava allo sviluppo deve fare solo sviluppo anche perché lo sviluppo continua a cambiare ogni anno escono nuove tecnologie se devi stare a passo coi tempi devi per forza seguire solo quella cosa, non puoi fare anche dall'altra parte la grafica assolutamente no assolutamente no se prendiamo per esempio il mio caso era la mia compagna che si occupava di realizzare la parte grafica e io mi mettevo solamente a fare la parte di sviluppo se avessi dovuto fare tutto io non sarebbe esistito nulla di tutto questo e idem se avessi dovuto fare tutto lei non sarebbe esistito nulla di tutto questo combinandoci insieme abbiamo creato questo io volevo solo fare sono qua volevo solo fare un commento diciamo da persona che oggi non c'entra molto con questo settore perché io mi occupo d'altro anche se ho un paio di blog così da matrice volevo dire intanto vabbè io ho anche insegnato a scuola e quello che stavi dicendo di questa professione nuova questa esplosione di novità è vero che lascio scoperto un mondo che sta dietro cioè da adesso in poi bisognerà crearlo da zero tant'è che nelle scuole si stanno accorgendo adesso che manca il coding, la programmazione e nessuno è più in grado di farla e si comincia ora dalle elementari e dall'asilo addirittura con il cubetto con queste nuove invenzioni per bimbi a ricominciare a stimolare il bambino ad avere la passione per il coding e la programmazione quindi il percorso sarà lunghissimo perché iniziano quest'anno dall'asilo o due anni fa vuol dire che ci hanno fra vent'anni ce li ritroveremo esatto anche perché parlando da mamma con figli al liceo i discorsi dei liceali di oggi che hanno fatto comunque un istituto scientifico ottimo hanno imparato anche a programmare hanno fatto tutta l'informatica che offre la scuola di oggi in quella scuola lì però i figli sentire loro ti dicono ma che palle star lì dietro ai codici ore chiusi in una stanza quando trovi già fatto quello fatto da qualcun altro e te lo prendi e lo usi quindi io queste frasi le ho già sentite in casa a girare tra ragazzi che dicono no ingegneria informatica ma sei scemo matematica codici io voglio fare business passo a prendere quello che hanno già fatto gli altri quindi è importante che nasca una passione alla base assolutamente sì assolutamente sì deve esserci sempre la passione dietro mia moglie Sara ha la passione per la grafica quando si mette lì lei non lavora lei gioca e idem io avevo la passione per lo sviluppo quando mi mettevo a sviluppare giocavo io sviluppavo di notte fino alle 5 del mattino alle 6 del mattino non sentivo le ore si faceva giorno ed io ero ancora lì che sviluppavo non me ne rendevo neanche con non mi pesava perché è un gioco non deve essere una cosa pesante e ritornando a questo mi ricollego non per forza devi fare lo sviluppatore lo sviluppatore è solo una delle tantissime figure che si stanno creando c'è il social media manager ne cito sempre una di quelle più comuni social media manager che è stare sui social non è un'attività così pallosa come potrebbe essere quella dello sviluppo per chi non è portato magari non hai una mentalità matematica perché lo sviluppatore è comunque un matematico se non hai questo tipo di approccio ci sono tante altre nuove professioni che si stanno creando che sono più creative stare sui social strategiche c'è un universo che sta crescendo e ogni giorno sta crescendo questo universo ogni giorno si crea una nuova professione prima che qualcuno inizia a lanciare pietre intende dire applicare strategie di business ai social network e non stare sui social giusto? sì no perché qua è pieno è... 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 grazie a tutti grazie a tutti